Bella a tutti ragazzi, qui il G per il ruolo del mio canale in questo nuovo video Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su Minecraft Questa volta con l'episodio numero 35 Allora ragazzi, come vedete dietro di me c'è il mob spawner Che come vedete appunto ho messo il vetro color azzurro come mi avete detto voi Praticamente, però non spawnano più mob Per qualche strano motivo, non so neanche l'arcano motivo, ne spawnano veramente pochi Da quando ho chiuso questo E andando di sotto comunque qua ho fatto tipo una stanza con degli hopper Dove appunto vanno a finire tutte le cose che cadono E come vedete in circa una settimana ho recimolato questa roba che è veramente poca Io ho pensato che c'erano delle caverne sotto ragazzi Infatti sono sceso, non avete idea di quello che ho fatto Ho veramente messo torce ovunque e ho praticamente levato ogni oscurità delle grotte Veramente assurdo per fortuna che trovavo il carbone quindi prendevo il carbone e lo piazzavo in forma di torcia Comunque ragazzi come la scorsa settimana come vedete il piccone è distrutto Io mi sono messo a scavare ragazzi E indovinate un po' cosa ho trovato Il diamante ragazzi ho trovato tipo tre diamanti E tre blocchi di diamante se non di più Quindi adesso andremo a prenderli Comunque mi è venuta in mente una cosa Visto che ultimamente sto scavando veramente tantissimo per trovare il tutto e per tutto Raccolgo i diamanti con docco di velluto e praticamente li conservo fino al 45esimo episodio E al 45esimo episodio tutti i blocchi che abbiamo trovato li spacco con il piccone con fortuna Ecco qua abbiamo i primi diamanti che sono uno due tre quattro Quattro blocchi sono quattro blocchi ragazzi Quindi prendiamoli con il piccone con fill touch e li prendiamo E quattro blocchi sono nostri Adesso se non mi sbaglio ce ne dovrebbero essere degli altri Qua forse erano gli altri ma lì che è? Ma ragazzi boh un bug assurdo ho visto Allora lì c'è un altro diamante Che per raggiungerlo non se ne parla Quindi lo lasciamo lì e poi magari lo prendo Anche lì abbiamo un altro diamante Quello me lo prendo ragazzi Spacco adesso un po' di pietra Guardate quanti diamanti stanno scendo qua ragazzi Regà io mi prendo gli invarti con sta cavolo di lava Io mi prendo i fottuti invarti E me è possibile? Per fortuna sono riuscito ad uscire Cioè regà io ogni volta mi prendo dei mali spaventi incredibili con sta lava eh Adesso prendiamolo con il piccone Attenzione c'è la lava maledetta Qui non c'è lava quindi lo posso prendere Siamo arrivati ad otto blocchi Perfetto ragazzi mi sono creato un pontile così veloce veloce E sono arrivato nell'altro diamante che siamo pronti a prenderlo Era solo un blocco Perfetto ragazzi poi non avevo trovato più diamanti se non sbaglio non avevo trovato più diamanti quindi torniamo sopra E abbiamo adesso nove blocchi che fra dieci episodi andremo a spaccare Quindi andiamo a dormire e prendiamo le nostre ender pearl ragazzi quelle che si possono tirare verso il portale Voglio iniziare a lanciare qualche perla così per trovare il portale ragazzi Lanciamo la prima perla del gioco dove cavolo è andata Boh ragazzi non ho capito assolutamente dove è andata la prima ender pearl L'ho persa praticamente di vista Lanciamo la seconda a sto punto Ecco questa è partita Quella di prima non era partita Allora dice di andare verso di là Allora ancora la possiamo utilizzare Esplosa Ma regà ma che sfiga però Esplodono tutte al primo Oh almeno questa Cioè regà esplodono tutte al primo Così è veramente un bottio di roba Se esplodono tutte al primo Portale io ti troverò E anche l'ultima fottuta ender pearl E esplosa Ottimo Veramente per trovare sto portale ci metteremo gli anni molto probabilmente Adesso io metto una torre qua Che sta a segnalare che praticamente qua c'è l'ultimo punto dove ci ha mandato la ender pearl Ragazzi ci siamo allontanati veramente pochissimo con 4 ender pearl Veramente spero che il portale sia il più vicino possibile Perché sennò qua non lo troviamo mai più Comunque ragazzi se alcuni di voi si stanno chiedendo dove ho trovato quel vetro lì Cioè no più che altro dove l'ho trovato Dove ho trovato tutta quella sabbia per fare quel vetro Praticamente ragazzi ho avuto fortuna Cioè sono andato a caso Sono andato verso sud E andando verso sud Praticamente qua vicino a me C'è il bioma della sabbia Mi sono orientato facendo una strada di pillar Infatti come vedete qua abbiamo un pillar Con questa strada di pillar praticamente sono arrivato a destinazione E poi mi hanno aiutato ovviamente per ritornare indietro Vi faccio anche vedere Tra l'altro ci vado perché avevo tipo visto qualcosa tipo un villaggio del deserto Quindi voglio andare a controllare cos'è Non è molto lontano Saranno tipo un 5 minuti di camminare a piedi ragazzi così Cioè è molto vicino Ecco ragazzi già da qua si vede un pochettino il bioma della sabbia E già quando sono arrivato qua praticamente ho esultato come una bestia Perché ho detto Cioè ma è possibile? Veramente inizialmente credevo fosse tipo un normale Una normale spiaggetta no? Io adesso in questo momento non ricordo dove cavolo l'ho visto il villaggio Ma salendo in gima dovrei vederlo se non sbaglio Cioè ragazzi guardate che stupendo Cioè abbiamo il bioma perfetto noi Abbiamo tutto molto vicino a tutto Adesso il vero colmo sarebbe trovare anche il bioma della neve ragazzi Eccolo qua ragazzi siamo saliti in gima E come potete vedere là di fronte ci sono delle casette Adesso andiamo a raggiungerle Cioè raga mi sto ricordando la prima volta che giocai a minecraft Io ero spawnato in un bioma di questo Avevo costruito la casa nel deserto Cioè ragazzi stavo partendo nel deserto Ma stiamo scherzando siamo pazzi Si vede che non capivo proprio un cazzo di minecraft A livello di villager Cioè ce n'è uno per culo Poi non c'è nessun altro Nella fornace non c'è nulla Qua c'è la cassa E abbiamo una sella Una sella Spada di ferro e piccone E abbiamo anche l'elmo Ragazzi la sella potrebbe essere molto utile Ragazzi il bello sarebbe riuscire a trovare una piramide nel deserto Quella si che droppa tanta ma tanta roba Comunque si sta facendo notte Meglio che mi muovo veramente tantissimo Comunque con la sella adesso Nel villaggio quello dove c'è il canyon Avevo visto un cavallo Quindi devo andare assolutamente a prendermi il fottuto cavallo Spero anche di trovare qualche enderman qua a giro Così lo prendo a botte Comunque raga sta cosa è una vergogna Cioè non riesco a trovare neanche un enderman Io devo mandare gli enderman a chi l'ha visto qua raga A chi vede le enderman gli do 1000 euro Cioè ma che cavolo è? Sapete che ora che ci sto pensando Non mi ricordo dove cavolo fosse l'altro villaggio Ok ragazzi sono riuscito a ritrovare le orme Per arrivare nell'altro villaggio Aspettate un attimo ma io sono venuto qui per i cavalli E dove è il cavallo? Boh ragazzi assurdo Io ricordo di aver visto dei cavalli qua in zona Quando ero venuto ma qua non li vedo più Ridatemi il cavallo indietro Ragazzi sinceramente ci sono rimasto un po' male Perché mi aspettavo di tornare a casa con un vottuto cavallo Ma qui il cavallo non ce sta Ragazzi ho visto il cavallo Ho visto il fottuto cavallo L'ho visto Ecco quel cavallo Ne abbiamo due cavalli uguali Però ne ho visto un altro che mi piaceva di più Questo qui mi piace di più ragazzi Io voglio questo cavallo Ragazzi mi piace di più questo cavallo Mettiamogli la sella addosso e selliamolo Ah ma io sono scemo raga Gli devo dare il cibo prima Ma ragazzi ma sono riuscito a far Cioè non lo so Ecco posso mettere la sella sul cavallo adesso Boh ragazzi strano Cioè non me la faceva mettere prima Ero convinto che ci volesse Ero convinto ci voleva la mela Ma la mela praticamente non ci voleva Abbiamo trovato un bel cavallo ragazzi Cioè guardate quanto è veloce Lo zio corre Hai voglia se corre Sono curioso di vedere fino a quando i blocchi riesce a saltare il cavallo Quindi ragazzi che dirvi Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like Inoltre fatemi sapere cosa ne pensate di questo magnifico cavallo che abbiamo trovato E inoltre scrivetemi qua sotto cosa fare nel prossimo episodio Quindi se volete passare dalla pagina di facebook E dal profilo di instagram Vi trovate il link sotto in descrizione Iscrivetevi al canale per i nuovi video Questa è tutto Bella raga A differenza di tutti gli altri Qua è veramente proprio un muro Ma quando finisce Quando finisce ragazzi Non ce la faccio più con l'analogico Maledizione Guardate dove era Era là sotto Ragazzi l'analogico non lo tenevo più Ma ragazzi ma questo qui è il wall ride della vita Nullo